Il Genoa ha annunciato ben 14 casi di positività al Covid-19. Dunque non solo Mattia Perin e la Sessione. Il coronavirus ha colpito il griffone che con una nota ha comunicato che i tesserati positivi al Covid-19 sono saliti a 14 tra componenti team e staff. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornerà prossimi aggiornamenti dettati dall'evoluzione. Il primo a risultare positivo, lo ricordiamo, era stato Mattia Perin, giusto alla vigilia della sfida col Napoli. La squadra di Maran era stata poi sottoposta a due giri di tamponi prima di partire per il capoluogo campano. E solo Sessione era stato lasciato a casa perché nel suo caso il verdetto del test era stato incerto. Ora però la situazione è precipitata con altri 12 casi fra giocatori e staff tecnico. Anche nella casa Napoli, avversario nell'ultimo turno di campionato della Genoa, è scattato l'allarme. Siamo purtroppo destinati a rivedere le stime continuamente, ma finora il danno per la Serie A è superiore ai 500 milioni di euro. Siamo il motore di un'industria che dà lavoro a migliaia di persone e questo danno si ripercuote sulle serie minori, arrivando fino alla base. Queste sono le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Serbo, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sporto su Rai Radio Uro, secondo cui la situazione legata al calcio è drammatica. Prima della pandemia in Italia i costi dei giocatori erano equivalenti ai ricavi da diritti televisivi, circa il 65% del fatturato. Mancando gli altri ricavi, oggi il sistema è prossimo al rischio collasso. Ha continuato la D della Lega. Senza gli stadi non esistono i ricavi e non è possibile riportare al vertice il nostro calcio. Siamo tutti allineati sulla ripresa dei campionati con la massima attenzione alle curve dell'epidemia, ma riteniamo di poterci avvicinare all'obiettivo del 25% con step intermedi. Il calcio non vuole un trattamento privilegiato rispetto ad altri settori, ma neanche essere svantaggiato, ha osservato De Serbo. Nessuna frattura per Ante Rebic. Il Milan può così tirare un sospiro di sollievo. La brutta caduta, rimediata contro il Crotone, domenica non ha comportato gravi danni al gomito dell'attaccante rosso-nero che tra dieci giorni sarà sottoposto a una risonanza specialistica. Di seguito il comunicato del club Meneghino. AC Milan comunica che in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida a Crotone-Milan, oggi Ante Rebic è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l'assenza di fratture e ad ulteriori indagini che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica. L'addio era nell'aria da qualche giorno. Lunedì sera è arrivata l'ufficialità. La S Roma e l'avvocato Mauro Baldissoni comunicano di aver risolto anticipatamente il proprio rapporto di lavoro. Conseguentemente, nel pomeriggio di lunedì, Baldissoni ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di consigliere e vicepresidente della società, nonché da tutte le altre cariche da lui detenute nella società da essa partecipate, oltre che nelle altre società del gruppo NIP Roma Holding S.P.A. Baldissoni è entrato a far parte della Roma nel 2011 ed è stato nominato direttore generale nel luglio 2013 sotto la presidenza Pallotta, si legge nel comunicato del club. A febbraio del 2019 ha assunto la carica di vicepresidente esecutivo con il compito di guidare il processo di approvazione dello Stadio della Roma. La società intende ringraziarlo per la sua dedizione instancabile sia verso il club, sia negli ultimi anni verso lo Stadio della Roma e augurargli il meglio per il suo futuro e quello della sua famiglia. Pochi istanti dopo è arrivato anche il tweet di Mauro Baldissoni che ha voluto ringraziare la società e tutto l'ambiente giallorosso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.